Fatto tu, ok. Ah, bene. Allora, così dichiaro ufficialmente aperto questo seminario. Buon pomeriggio, intanto. Ho il grande onore di fare la moderazione di questo seminario, visto che il nostro buon PG Scarlato, che abbiamo brevemente sentito, è impegnato altrove. E quindi ho il piacere di annunciare questo interessantissimo seminario del resto di colleghe e colleghi catanesi, di Tania Ganci, Annalisa Capello e Marco Neri, del titolo Modelli digitali di superficie in aree vulcaniche ottenuti dalla fusione di diversi dati satellitari. A voi. Grazie Boris, buon pomeriggio a tutti. Per chi non mi conoscesse, sono Tania Ganci, una ricercatrice dell'Osservatorio Etneo. E oggi vi parlerò di questo lavoro che abbiamo portato avanti assieme ai colleghi Annalisa e Marco, che riguarda la possibilità di fondere diversi tipi di dati ottici ad altissima risoluzione per creare dei modelli digitali di superficie. fondamentalmente ci occuperemo di un'applicazione di questo metodo su vulcano Etna, però quello che vi mostrerò in realtà è facilmente esportabile a qualsiasi superficie terrestre, al di là del fatto che sia vulcanica o meno. Vi parlerò inizialmente di quelle che sono le motivazioni che hanno portato allo sviluppo di queste attività di ricerca, delle possibilità di creare modelli digitali di superficie a partire da dati satellitari, quindi di quali sono i limiti e i vantaggi di queste tecniche, e poi andrò nel vivo dell'algoritmo, della fusione di questi diversi modelli digitali di superficie, mostrandovi poi dei risultati su Etna e delle possibili prospettive future di questi tipi di studi. Inizio da quelle che sono le motivazioni. Di fatto all'osservatorio Etna in particolare ci occupiamo di sorveglianza e monitoraggio dei vulcani siciliani, con particolare attenzione per esempio al vulcano Etna, e ci occupiamo per esempio della possibilità di monitorare la pericolosità vulcanica in termini anche di quelle che sono, per esempio, le simulazioni delle colate laviche. Avere modelli aggiornati di superficie di un vulcano attivo è senza dubbio una cosa di fondamentale importanza, soprattutto poiché la morfologia del vulcano è continuamente in evoluzione, quindi dobbiamo essere pronti a riaggiornare la topografia in maniera abbastanza celere. E questo risulta importante per esempio per le simulazioni delle colate. Vi mostro qua un esempio di una colata sul mitale, questa è una coppia di colate che ha avuto inizio nell'agosto del 2018, e in quel caso avevamo il modello digitale aggiornato al 2016. Bene, il braccino di nord praticamente prende questo percorso, mentre in grigio qua c'è l'outline della colata reale. In realtà in questo tema mancava la campolavico che aveva avuto luogo nel 2017, quindi prontamente abbiamo cercato di inserire nella topografia questo campolavico e la nuova simulazione ricalca molto di più quella che era poi la reale. Quindi capiamo come questi modelli per le simulazioni di colate hanno un'importanza esagerata. Ovviamente qua stiamo parlando di colatine sommitali, però con le dovute proporzioni nel caso di eruzioni più importanti di fianco, avere questi modelli aggiornati e possibilmente inserire anche quelli che sono gli edifici è una cosa di fondamentale importanza. Altro motivo che ci ha spinti a sviluppare delle metodologie per l'aggiornamento dei modelli di superficie è il fatto di poter dare delle stime sempre più veritiere di tasse effusivi a partire da dati satellitari. Questo è un argomento di cui io mi occupo da circa 20 anni, c'è la possibilità di utilizzare i dati satellitari multispettrali come possibile proxy del tasso effusivo. Bene, esistono varie teorie, esistono vari esperimenti, analogici e non, che dimostrano che in qualche modo quando si raggiunge il cosiddetto stato steady state, quindi equilibrio termico, il tasso effusivo può essere proporzionale alla colata attiva. Però questa proporzionalità non è sempre la stessa, ma dipende da tantissimi fattori, dalla tipologia di lava, dalle condizioni climatiche, insomma molti sono i fattori che entrano in gioco e avere un controllo finale sui depositi ottenuto da differenze di topografia ci permette di fornire dei vincoli a questa conversione. Questo è uno studio che è stato poi sviluppato in un progetto di ricerca libera chiamato TUN nel 2019, ma che ancora una volta evidenzia l'importanza di avere queste topografie sempre più aggiornate. Altro problema è il fatto che se parliamo di vulcani attivi, stiamo parlando di ambienti estremi, dove andare a fare delle misure e l'ocrono è sempre semplice, anzi molte volte è complicato dalla instabilità sessa dei versanti, delle morfologie sommitali, dal fatto che ci sono venti molto forti e anche continue emissioni di gas. Quindi andare a fare delle misure in continuo e luogo non è una cosa sempre realizzabile. Sicuramente le misure da terra o da vicino hanno una loro importanza, hanno dei dettagli, danno dei dettagli e delle precisioni sicuramente maggiore rispetto a quelle dei dati satellitari, però non sono sempre realizzabili. Altra motivazione è infine l'enorme numero di missioni satellitari volte al monitoraggio topografico. Qua vi mostro solo i dati che noi abbiamo processato negli ultimi anni e andiamo dai dati Aster, a bordo di terra lanciato nel 2001, che permette di fare, di realizzare delle topografie a 18-20 metri. E via via si aumenta un po' la risoluzione spaziale di questi dati passando dagli ultimi microsatelliti, quindi i CubeSat, che montano sensori come Planetscope, che permettono di avere una risoluzione spaziale di 3 metri, 3,7 metri, e opportunamente processati possono produrre dei demo a 7 metri. Vado avanti considerando poi gli SkySat, che hanno una risoluzione spaziale migliore, e poi c'è tutta la famiglia dei WorldView, partono dal WorldView 1 al WorldView 3, che vanno da mezzo metro a 30 centimetri. Ad oggi WorldView 3 fornisce dati in super risoluzione a 15 centimetri. Stessa cosa per quanto riguarda la costellazione di dati PlayHard, che sono la prima costellazione che ha permesso l'acquisizione tristereo, cioè durante il passaggio sopra un target acquisiscono tre volte, quindi prima del nadir, al nadir, quindi quando si trova esattamente sul target, e dopo, utilizzando le tre viste diverse, è possibile poi ricostruire in maniera più precisa la topografia. L'ultimo nato dei PlayHard è il PlayHard Neo, che in questo caso ha una risoluzione spaziale di 30 centimetri, e noi abbiamo già provato a creare dei demo a 50 centimetri di risoluzione. Tutti questi dati sono on demand, cioè significa che noi dobbiamo in qualche modo richiedere l'acquisizione, il che non è immediato, non è semplice, però in caso di emergenza, loro riescono a dare una priorità alla loro acquisizione, e quindi potrebbero potenzialmente permetterci di avere dei risultati dell'acquisizione in tempi veramente rapidi. Comunque noi dobbiamo essere pronti a processarli per adesso con tutti i limiti che loro hanno, e possono fornirci quindi sia modelli digitali di superficie, che ortofoto, che superficie delle colate, o di depositi vulcanici, e spessori associati a questi depositi vulcanici. Passo quindi a, ve l'ho detto prima, come funziona un po' questo sistema, cioè come utilizzando più dati satellitari, più viste dello stesso dato satellitare, è possibile ricostruire la topografia della superficie terrestre. Praticamente si fa utilizzo di quelli che sono i principi di fotogrammetria. Quindi avendo un oggetto di qualsiasi tipo, effettuando diverse foto da diversi angoli di vista, è possibile ricostruirne, è possibile ricostruirlo, è possibile effettuare delle misure fisiche, delle misure precise. Quindi la fotogrammetria è proprio quella tecnologia che ci permette di ricavare delle informazioni affidabili e precise da foto. e ovviamente il nostro obiettivo è quello di passare da immagini bidimensionali, più immagini bidimensionali, ad una ricostruzione tridimensionale, o comunque ad una mappa ortorettificata, quindi che ci permette di fare delle misure verbiere. Per quanto riguarda la fotogrammetria abbinata a dati satellitari, questi sono i principali passi necessari per il processing di queste immagini. Si parte da quello che è il dato, che deve essere non rettificato, quindi l'immagine primaria, così come viene acquisita dal sensore, si deve conoscere il modello del sensore, quello che si fa adesso è quello di fornire, insieme all'immagine stessa, dei coefficienti polinomiali, che si chiamano rational polynomial coefficients, che permettono proprio di trasdurre l'informazione bidimensionale dell'immagine in coordinate geografiche. Sono poi necessari, diciamo, dei punti di raccordo, i cosiddetti tie points tra le diverse immagini, quindi quello che è necessario è individuare dei punti che sono gli stessi e che si vedono in due o tre immagini satellitari. Se c'è la possibilità, si possono anche inserire dei punti di controllo a terra per avere delle informazioni più precise e dopodiché si aprono degli algoritmi o di triangolazione o di correlazione tra queste immagini per provare a ricostruire una nuvola di punti che rappresenta la dimensionalità della scena. Da questa poi si possono realizzare delle superfici digitali, delle ortofoto, e poi quello che si fa di solito è il post-processing per eliminare quei dati spuri, quei picchi, quegli spike, quelle informazioni che sono ovviamente falsate e che andrebbero a, diciamo, inficiare il prodotto finale. Quindi si fanno di solito delle operazioni di post-processing. Tra i vari software che esistono, devo dire che lavoriamo su questi dati da ormai un bel po' di anni, abbiamo provato diversi software commerciali, costosi, costosissimi, e non, abbiamo notato che il Micmac dà delle risposte migliori. Innanzitutto è un software free, open source, quindi è su GitHub, chiunque può scaricare il codice e può vedere esattamente che cosa fa. Diciamo che permette di effettuare tutta una serie di operazioni che nei software commerciali sono molto pionerose in termini di tempo, in maniera automatica. Vengo adesso dall'utilizzo, per esempio, di Erdas Imagine, che è un altro software blasonato da 20.000 euro circa, che però ti deve portare a visualizzare i punti, i type points, i punti proprio di controllo da un'immagine all'altra, controllare se effettivamente sono prese correttamente, eventualmente spostare. C'è tutta una serie di operazioni che su Micmac non esistono, perché Micmac ha degli integrati, degli algoritmi abbastanza evoluti, su cui praticamente l'utente interagisce tramite scripting. Mi devo ringraziare tantissimo Giuseppe Bilotta per avermi proprio aiutato nell'installazione, nel funzionamento di questo software, e Luke Giroga, uno sviluppatore, che ci ha dato sempre dei consigli su come ottimizzare la strategia per massimizzare il risultato per le superfici ottenute. Però tutte queste funzioni, diciamo, sono implementabili e scorporabili, quindi si può decidere un po' quali sono quelle che si vuole fare per il problema da risolvere. Si può inserire una topografia di controllo, di solito è consigliabile farlo, in modo da avere dei risultati più precisi. E la cosa interessante, per esempio, si utilizza un algoritmo per il tie point, che è il shift, che ricostruisce centinaia di punti di controllo senza nessun intervento da parte dell'operatore umano. E funziona veramente bene. Quindi, in realtà, siamo orientati su questo e siamo in contatto con gli sviluppatori di questo software, anche perché, lavorando con il dense image correlation, questo software riesce a trattare il multi-view, che non è una cosa banale. La maggior parte dei software utilizzano la visione stereo, quindi hanno due immagini e lavorano su triangolazione. Invece il Micmac può lavorare su 10-20 immagini diverse, e riesce comunque a ricostruirti il 3D. E questo è importante anche per quanto riguarda delle immagini che stiamo utilizzando ultimamente, che sono le SkySat, che normalmente vengono fornite a piccoli ritagli, non rettificati, per cui si parla per l'Etna di centinaia di immagini, di piccole immagini, ognuna dei quali ha i propri polinomi, i rational polinomi al coefficient, e che devono essere trattati contemporaneamente. Quindi, diciamo, questo software è ostico, diciamo, all'installazione e all'utilizzo, però ha dei grossissimi vantaggi. Vi mostro come abbiamo realizzato dei DEMMA a partire da dati Aster. Questo è un esempio per l'eruzione del 2011 del Nabro, in cui il Micmac è stato specializzato da Luke Giro per quanto riguarda il processing dei dati Aster, e ci ha permesso di ottenere un DEMMA alla risoluzione spaziale di 18 metri. Questo è stato fatto, considerando che Aster ovviamente passa molto più spesso rispetto alla maggior parte di questi sensori ottici ad altissima risoluzione, e quindi siamo riusciti ad avere sei diversi DEMMA, che abbiamo poi combinato, perché effettivamente l'ultima eruzione del Nabro non era recentissima, e quindi avevamo, anzi, per nulla, quindi avevamo la disponibilità di una buona banca dati di immagini in cui la topografia non era cambiata. Quindi abbiamo integrato sei di questi DEMMA proiettivi e abbiamo realizzato un DEMMA alla risoluzione di 18 metri. Altro tipo di dato da non sottovalutare è il Planetscope. Il Planetscope invece sta a bordo di questi sensori, di questi microsatelliti, e passa all'incirca ogni giorno per ogni punto del globo. Quindi fa queste acquisizioni che non sono in demanda, quindi passa a prescindere, però è interessante capire che non passa sempre con lo stesso angolo di vista, anche perché non è sempre lo stesso strumento, perché sono centinaia questi satelliti, il sensore è uguale, ma ha lanciato su centinaia, ha montato su centinaia di satelliti, per cui si riescono ad avere delle acquisizioni dello stesso punto con degli angoli di vista sufficientemente buoni da essere considerati stereo. E quindi utilizzando diverse scene siamo riusciti ad ottenere un DEM post-eruttivo sul NABRO a 7 metri. Ora sul NABRO l'eruzione che c'è stata è stata un'eruzione molto importante, per noi è stato un primo esperimento di ricostruzione topografica. I volumi in gioco erano 500 milioni di metri cubi, quindi sicuramente spessori elevatissimi, però con questi dati che sono comunque free siamo riusciti a fare una differenza di DEM e fare una stima dei volumi. Ovviamente su Etna questo non è possibile, abbiamo bisogno di dati a risoluzione spaziale maggiore e quindi utilizziamo fondamentalmente i dati play-add. I dati play-add che hanno una risoluzione spaziale di mezzo metro e permettono di ottenere un prodotto ad un metro di risoluzione spaziale. I primi esperimenti sono stati fatti utilizzando la banca dati disponibile al progetto SWOP che è nato proprio per gli osservatori vulcanologici che utilizzassero dati play-add e successivamente, recentemente, abbiamo avuto il piacere anche di utilizzare i dati play-add Neo che sono appunto a 30 cm di risoluzione spaziale e hanno prodotto un DEM a 50 cm, quindi abbastanza preciso. I play-add Neo però hanno lo svantaggio di avere un costo che non è irrisorio rispetto a tutti gli altri dati perché sono gli ultimi ritrovati tecnologici in questo campo e quindi hanno un costo abbastanza importante, soprattutto se si parla di dati che vengono acquisiti ad hoc. Altra cosa, si possono acquistare anche dei dati che sono di archivio, che quindi loro già hanno acquisito per altri motivi e hanno un costo ovviamente molto inferiore. Ora veniamo a quali sono le problematiche di questi dati. Intanto ci tengo a precisare che negli ultimi anni, quindi dal 2018 circa adesso, la maggior parte dei dati che processiamo vengono dai supersite, che sono praticamente una rete di siti privilegiati perché caratterizzati da GeoAzart che si vogliono studiare con l'ausilio dei dati satellitari. Nell'ambito del supersite Etna e anche nell'ambito del Virunga supersite io mi occupo di fare il testing di questi dati e quindi mi trovo a controllare le varie immagini che vengono acquisite da Airbus periodicamente, che però la maggior parte delle volte sono ricoperte da nuvolosità. Quindi su un dato ottico la nuvolosità non può essere ignorata ma è un problema gravissimo che non si riesce a superare. Poi c'è anche un'altra storia che le agenzie spaziali hanno i loro algoritmi per riconoscere le nubi. Quindi loro dicono per esempio in questa scena dell'Etna c'è un 30%, un 20% di nuvolosità e la bocciamo. Ma nel momento in cui questa nuvolosità è un degassamento questo non viene visto come un problema per loro perché l'algoritmo non riconosce il degassamento essendo normalmente a strati inferiori e comunque con molto più diluito rispetto alla nube e quindi loro il dato lo acquisiscono e te lo mandano e non si può rifiutare nel caso in cui ci possa essere degassamento. Quindi oltre al problema di degassamento ci sono anche altri problemi che hanno questi dati ottici. Uno, banalissimo la presenza di neve in cima ai vulcani è una cosa molto ricorrente e ovviamente falsa la misura. Quindi il dato su Etna ricoperto da neve non viene preso in considerazione. Altro problema sono i sabbioni lavici che spesso hanno delle texture molto lisce su cui è difficile andare a riconoscere i tie points anche per Micmac. E allora in tal caso ci sono delle zone d'ombra che non vengono risolte. Quindi si cerca di cambiare ora del giorno o diciamo orbita di acquisizione per riovviare questo problema ma molte volte questo problema permane. Per riuscire a massimizzare il risultato nel processing di questi dati abbiamo sviluppato un algoritmo che facesse la fusione di queste immagini ovvero che prendesse le parti migliori di ogni immagine. Vi mostro lo schema operativo di questo algoritmo che è poi quello che è stato pubblicato in una recente pubblicazione su Remote Sensing in realtà l'abbiamo pubblicato a dicembre 2022 ma è anno 2023 che utilizza diversi step per raggiungere un risultato diciamo finale che prendesse in considerazione tutti i modelli digitali di superficie disponibili per un determinato target. Allora come funziona questo algoritmo? Il primo passo è diciamo il pre-processing del dato perché fondamentalmente ovviamente essendo dati acquisiti da satellite ogni dato avrà le sue caratteristiche peculiari che dipendono dall'orbita del satellite dalle condizioni atmosferiche e da tante cose che non si possono controllare. Quindi normalmente anche se facciamo diversi DEM utilizzando lo stesso dato satellitare ma immagini diverse avremo dei DEM leggermente diversi. Quindi la prima cosa necessaria è la co-registrazione di questi DEM si devono portare tutti a un unico diciamo sistema di riferimento e si devono evitare minimizzare al massimo gli shift che possono esistere. Per far questo dopo vari tentativi perché su questo un po' ci lavoriamo da tempo anche su DEM da LIDAR o su DEM da reofotogrammetria abbiamo visto che utilizzare un algoritmo sviluppato da New Tech Hub e che ha anche un'implementazione in Python che è disponibile proprio su Github quindi chiunque lo può scaricare si chiama DEM online da dei risultati veramente ottici quindi abbiamo applicato questo algoritmo che fa delle rotazioni oblique in orizzontale e in verticale e minimizza l'errore la differenza tra più topografie. Quindi la prima cosa è la co-registrazione è il masking di aree che invece potrebbero essere cambiate tra un DEM all'altro che questo ovviamente è una cosa che bisogna tenere in considerazione. Dopodiché suddividiamo il ognuno di questi DSM in sottoregioni regolari cambiando la dimensione di queste sottoregioni. Qua è una scelta un po' arbitraria la dimensione si passa ad esempio da 50 metri a 500 metri da 20 metri a 200 metri questo dipende un po' dal problema dalla capacità di calcolo e dalla precisione che vogliamo raggiungere. Però la prima cosa è proprio quella di dividere questo DEM in sottoare e per ognuno di queste aree di questi patch andiamo a fare delle divisioni dovute allo slope quindi dividiamo questo patch di solito piccolo almeno in due aree che dipendono da questo slope. Su ognuna di queste aree viene calcolato l'operatore differenziale di Laplace perché viene fatto questo? perché questo tipo di operazione va a mettere in risalto le variazioni brusche quindi tutti quelli che sono artefatti del DEM nuvolosità problemi di texture o altro vengono subito individuali e devono ovviamente essere eliminati perché creano un problema quindi quello che si fa è calcolare la deviazione standard dell'operatore differenziale di Laplace e prendere il minimo valore in modo che andiamo abbiamo la certezza di prendere il risultato migliore che abbiamo per ogni patch vengono poi fatti dei DEM preliminari che vanno a considerare tutte le patch tutti i patch e vengono diciamo fusi assieme quindi in funzione del numero di dimensioni di patch che noi stabiliamo potremmo avere n diversi DEM preliminari questi DEM preliminari dopodiché vengono messi assieme in un DEM finale considerando semplicemente per ogni punto perché stiamo parlando di prodotti comunque georeferiti e correttamente allineati prendiamo la mediana per ogni punto la mediana del risultato in questo modo siamo sicuri di prendere il risultato migliore e devo dire che il DEM risultante con questo procedimento appare non ha bisogno di post processing ecco è abbastanza pulito smooth ma contiene tutti i dettagli diciamo necessari che non vengono appunto trascurati passo quindi al caso studio perché diciamo tutto è nato dall'abbondanza di immagini satellitari nell'anno 2021 e contemporaneamente dalla attività esagerata dell'Etna durante lo stesso periodo quindi abbiamo avuto grazie a Supersite Etna la possibilità di avere due acquisizioni una il 13 luglio e una il 25 luglio in tristereo e grazie al progetto TUN abbiamo potuto acquistare un'acquisizione d'archivio che era stata fatta da Warview 1 nel 27 luglio quindi abbiamo il 25 e 27 luglio e in questi due giorni non era successo nulla su Etna invece tra il 13 e il 25 vedremo che c'era delle attività comunque queste immagini presentano dei problemi intanto c'è il degassamento che come vi dicevo non viene considerato nuvola dalle agenzie spaziali dicono il dato è perfetto te lo validano e lo devi prendere e invece nella Warview c'era il degassamento ma avevamo visto che il degassamento era in un'area che in realtà a noi interessava poco mentre la parte sommitale era splendidamente pulita e perfetta quindi abbiamo preso questi tre dati assieme e abbiamo calcolato i tre DEM vedete qua mostro tra diciamo cerchiate le aree problematiche che vengono fuori da ciascuno dei DEM e entrambi i DEM sono stati processati utilizzando il MITMAC tra il 13 invece e il 25 luglio c'era stata attività ci sono state due eventi parossistici avevamo visto che c'era questa differenza di spessore quest'area era stata mascherata per quanto riguarda l'immagine del 14 luglio quindi era stata tolta dal processing dell'immagine del 14 luglio mettendo assieme tutte e tre questi DEM siamo riusciti a ricostruire la topografia la mappa topografica dell'Etna a giornata il 27 luglio 2021 e siamo anche riusciti a misurare la nuova altezza del cratere di sud-est che a causa dell'attività esplosiva delle fontane di lava che erano accadute dal 2020 al dicembre 2020 al luglio 2021 aveva superato in altezza il cratere di nord-est poi questa notizia ha fatto un po' il giro del mondo diciamo ci sono state tutta una serie di titoli giornali per cui la marmolata aveva presso il posto dell'Etna e il monte Etna è diventato più alto di sempre insomma questa notizia ha avuto le sue repercussioni un po' in giro del mondo e il prodotto che abbiamo ottenuto diciamo era soddisfacente per quelli che erano i nostri standard considerando che è un prodotto ottenuto da satellite quindi è in questo caso anche ottenuto senza punti di controllo perché noi quando abbiamo fatto questo demo non abbiamo inserito alcuni punti di controllo a terra quindi quello che abbiamo fatto dopo è stato andare a vedere quanto questo prodotto potesse essere buono in relazione a quelle che erano le misure disponibili quindi i ground control point evidentemente avevamo una bancata di ground control point che veniva dal progetto swap quindi abbiamo inizialmente visto questi 152 punti e abbiamo visto che c'erano dei punti dove l'errore era più grande e punti dove l'errore invece era inferiore consideriamo che con questi prodotti le stesse agenzie ti dicono che l'errore anche sull'orizzontale può essere di 3 metri del prodotto dato in funzione di quello che è lo slope noi ovviamente siamo stati attenti abbiamo fatto l'alberitto e abbiamo ottenuto degli errori inferiori però ci sono dei punti dove la differenza è molto più alta e ora non si sa bene come sono stati presi questi punti e soprattutto qual è la differenza in orizzontale tra il punto visto nel mio DEM e il punto in cui hanno preso la misura perché questo comunque non è banalissimo vediamo che il DEM fuso comunque ha delle prestazioni migliori rispetto ai 3 DEM singolari ma diciamo su questo non ci siamo fermati perché abbiamo voluto proprio cercare di capire fino a che punto questo prodotto poteva essere affidabile e non o non affidabile e quindi insieme ad Alessandro Bonforte abbiamo fatto delle misure ad occhio in questi punti rosa scegliendo i punti in modo da poterli vedere chiaramente nell'immagine satellitare e quindi sono stati scelti accuratamente e in più sono stati presi tutti gli altri punti della rete GNSS discreta e cosa è stato fatto è stato per 48 quindi misure GNSS è stato calcolato la differenza tra quella che era la misura e quella che era il dato appunto misurato con il DSM abbiamo ottenuto una media diciamo di errore di 3 centimetri quindi abbastanza bassa ma un massimo di 3.7 metri quindi abbiamo cercato di capire perché e poi è stato molto semplice capire perché perché il punto che ci dà un errore di 3.7 metri è questo qua che si trova sulla schiena dell'asino in una diciamo parete proprio ripida quasi verticale in cui anche un errore uno spostamento di un metro in orizzontale ti dà una differenza di molti metri in verticale sui punti scelti accuratamente invece l'errore era molto più basso e grossomodo eravamo dentro i 50 centimetri che è quello che ci aspettiamo perché stiamo parlando di un Satelli a 700 km alla terra che fa sì delle acquisizioni stereo ma l'angolo non è così grande questo è anche importante da dire perché si preferisce fare delle acquisizioni vicine in tempo e vicine anche come angoli perché poi gli algoritmi di matching e di correlazione funzionano meglio perché le immagini in realtà sono molto vicine e quindi si riescono a prendere più punti di controllo in maniera automatica e questo però ha questo discorso questo errore di 50 centimetri utilizzando questo tema del 2021 abbiamo pure potuto stimare quelli che erano i prodotti emessi dal 2016 in poi perché il tema precedente era di luglio 2016 e abbiamo potuto calcolare quello che era il volume totale di materiale emesso abbiamo distinto tra il volume di lava e il deposito in area craterica e abbiamo visto anche come la massima diciamo altezza del cadale sud-est era aumentata di 120 metri quindi è una cosa importante e su questo ci siamo soffermati vedendo anche che considerando un dem precedente cioè dell'agosto 2020 quindi dall'agosto 2020 a luglio 2021 avevamo avuto circa 110 metri di spessore di materiale depositato nella parete sud del cratere di sud-est materiale che si è depositato in circa sei mesi perché sei, sette mesi quindi un tempo molto breve e proprio da questa parete sud è nato poi quello che è il collasso parziale del cratere di sud-est che è avvenuto il 10 febbraio 2022 per cui vi mostro qua la differenza di teme successiva quindi dal 29 giugno 2022 al 27 luglio 2021 fa vedere proprio lo svuotamento di queste aree dove c'erano questi accumuli spaventosi evidentemente anche poco compattati per quanto riguarda i risultati mi fermo qui ho mostrato i principali risultati ottenuti con questo studio e vi parlo di quelle che sono le prospettive future di quello che abbiamo iniziato a fare e vorremmo fare in maniera un po' più rigorosa e a temi automatica ovvero la possibilità di aggiornare i modelli digitali di superficie utilizzando sia dati satellitari che droni questa è un'attività che stiamo portando avanti anche all'interno del PNRR MIT e insieme al gruppo di cartografia laboratorio di cartografia a Catania abbiamo fatto già i primi test per cui la base topografica dei bollettini viene fuori da un merge di dati ottenuti da drone con dati ottenuti da satellite ovviamente i dati satellitari noi li acquisiamo grazie ancora una volta al progetto Supersite il progetto Supersite in media ci da due tre immagini l'anno però se succede anche un evento è importante avere una risposta più immediata se c'è la possibilità di andare a fare delle misure col drone sicuramente queste misure sono più precise normalmente sono in un'area molto più piccola e quindi quello che si può fare è proprio fare l'integrazione di queste due sette di dati e l'abbiamo fatto diverse volte un po' di volte diciamo finora per quanto riguarda ulteriori prospettive future sempre all'interno del progetto dell'iniziativa Supersite abbiamo ottenuto visto che comunque questi dati abbiamo dimostrato che sono utilissimi per il monitoraggio vulcanologico abbiamo ottenuto un aumento di quella che è la quota che viene assegnata annualmente al Supersite e quindi abbiamo pensato di estendere l'area includendo anche i paesi limitrofi e questo per poter fare anche delle valutazioni di rischio quindi per poter tenere in conto l'edificato e anche cercare di caratterizzare l'edificato che abbiamo per esempio in questa slide mostro uno studio che avevamo fatto utilizzando dei dati SkySat che adesso si potrebbe migliorare nel momento in cui avremmo i dati PlayHard che permette di classificare il tipo di copertura quindi se stiamo parlando di tetti per esempio a falde o terrazzi e questa potrebbe essere un'informazione importante per esempio per valutare le ricadute di cenere di tefra su questi tetti e eventualmente fare studi di rischio ma non solo anche tenere in considerazione quelli che è l'edificato e come l'edificato cambia perché anche questi dati non sono sempre disponibili non sono sempre aggiornati e per fare delle valutazioni di rischio sono molto importanti a tal proposito vi mostro uno studio che in questo momento abbiamo in corso insieme a diversi ricercatori dell'ONT che si occupa di studiare il danno post evento diciamo dopo il terremoto della Turchia nel 2023 e questo è uno studio che riguarda la fusione di dati SAR con dati ottici ma uno dei problemi più grandi era trovare una ground truth cioè cercare di capire effettivamente qual era la verità cioè quali erano le case i palazzi effettivamente crollati e quali non perché le informazioni che forniva Copernicus erano diciamo frammentate praticamente c'erano dei pallini posizionati più o meno sopra gli edifici non erano descritte chiaramente quindi utilizzando i dati play ad perché anche in questo caso la Turchia è un super site siamo riusciti ad ottenere i dati play ad pre terremoto e post terremoto abbiamo realizzato dei modelli digitali di superficie e dalla differenza di questi modelli digitali di superficie abbiamo visto effettivamente quali erano gli edifici crollati poi ovviamente c'erano nel frattempo anche edifici nuovi costruiti perché questo DEMPRE era del 2016 però questo tipo di studi si può applicare ovviamente ovunque utilizzando questa tipologia di dati concludo dicendo che la maggior parte molti prodotti diciamo che vi ho mostrato andranno all'interno della piattaforma PEOS in particolare riguardo all'attività 9.4 e il modulo 3D Models all'interno del progetto MITI quindi stiamo lavorando su questa piattaforma e questi dati saranno poi disponibili sicuramente all'interno dell'INGV e potenzialmente anche in parte all'esterno diciamo che questa era la mia ultima slide per cui vi ringrazio per l'attenzione se ci sono domande sono qui grazie 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 interessantissimo e voglio subito fare una domanda avete in mente anche di fare avete già i dati per fare un dem aggiornato perché dal 2021 sono successe ancora diverse cose e i crateri sud-est è ancora più alto adesso però nessuno sa esattamente quanto allora in realtà noi abbiamo dei dati al dicembre 2023 acquisiti e in questi giorni la settimana scorsa tramite il super site abbiamo anche un'acquisizione che riguarda un po' la parte diciamo S della Valle del Bove quindi non prende proprio la sommità e prende i paesi proprio perché abbiamo allargato l'area quindi abbiamo in corso il tasking quindi è aggiornato e speriamo di avere quanto prima anche i dati bene poi c'è anche Emanuela che ha alzato la mano che forse ha delle informazioni volevo dirti che nel bollettino c'è il dem aggiornato a ottobre del 2022 22 23 scusa 23 è aggiornato al 23 a novembre 2023 il dem che c'è nel bollettino e quando abbiamo fatto l'aggiornamento nella sezione del bollettino con contenuti extra c'era la quota però è cresciuto ancora da allora ha fatto due anni così poco no a vederlo comunque avevamo visto luglio 2023 qualche metro però io dicembre non le ho processate i dati vi dico la verità però lei dice ottobre quindi coincide diciamo sì poi abbiamo fatto degli altri rilievi da poco però preferiamo poi fare rilievo più accurato quando possiamo fare tutti i crateri in una botta sola quando le condizioni migliori abbiamo rinfatto il sudessimo era un paio di metri di più non di più ok va benissimo va benissimo ottimo lavoro altre domande altri interventi o sono tutti felici ecco Giuseppe tanto grazie Tania per per la presentazione devo dire anche per vedere un utilizzo così così ben fatto dai dati del super site etna la mia è una domanda poi devo dire qualche minuto mi sono dovuto assentare perché è arrivata una telefonata e ho dovuto rispondere ma parlavi di ground control point la tecnica come giustamente detto all'inizio era applicabile in qualunque area vulcanica o non mi domando se cioè se quanto posso influire ground control point nel senso non sempre ce l'hai e non sempre ce l'hai di buona qualità qualità tutto questo cosa può comportare poi nel risultato finale diciamo diciamo questo Giuseppe probabilmente già l'hai detto però no no non l'ho detto non l'ho detto grazie per la domanda questo è il motivo come parlavamo anche con Emanuela l'altro giorno questo è il motivo per cui non ho inserito non abbiamo inserito il ground control point per realizzare il modello perché ovviamente devono essere ben distribuiti spazialmente all'interno dell'area di studio e devono essere tutti con la stessa precisione il che non è semplice perché per esempio quelli del progetto SWOP erano stati presi su punti da persone che magari avevano degli strumenti diversi magari erano stati più attenti meno attenti magari insomma non erano non potevano essere utilizzati i punti che abbiamo preso con Alessandro sono molto più sotto controllo però sono solo nel lato sud il che implica che non non posso metterli perché la superficie viene è come se io tirassi da un lato una coperta dall'altro invece mi scopro quindi dovremmo avevamo pensato anche con Emanuella di mettere proprio dei segnali chiaramente evidenti da satellite perché il punto sta pure nel prendere il punto che tu vedi dall'immagine satellitare perché se ti sposti di un metro magari prendi un punto completamente sbagliato e forzi la topografia a affittare quel punto quindi è una cosa molto delicata e si devono fare delle misure ad hoc così come abbiamo fatto al lato sud dovremmo farle al lato nord dovremmo mettere anche qualche segnale bennavidanta chiarissimo grazie la mia domanda però voleva arrivare anche a un punto più generale se l'obiettivo è quello di metterla in fammi usare questo termine in produzione su PEOS insomma sulla piattaforma e chiunque chiunque no insomma si può anche utilizzare in un'area in cui questa possibilità non ce l'hai c'è un modo indipendente di fare un error assessment oppure per esempio per un confronto con altri tipi di dati avete pensato a qualche tecnica per fare una valutazione dell'errore del prodotto finale indipendentemente dal ground control point perché appunto potremmo averceli per questo allora in un altro c'è ovviamente una caratteristica costruttiva che ti fornisce l'agenzia spaziale che però normalmente è pessimistica loro proprio si mettono al sicuro quindi ti dicono tre metri due metri verticale insomma si mettono molto sul sicuro la cosa che abbiamo fatto noi quando non avevamo punti di controllo quindi parlo 2015-2016 facevamo le topografie più di una ovviamente e cercavamo di minimizzare l'errore in quei punti quindi facevamo gli allineamenti in modo da minimizzare gli errori in quei punti dove sapevamo eravamo sicuri che non c'era stato nulla quando succedeva che in quei punti in realtà c'era quella differenza perché poi se tu vedi i residui hanno comunque una distribuzione gaussiana e quindi la deviazione standard di questa gaussiana è l'incertezza associata al dato che tu hai questo è quello che abbiamo fatto poi puoi prendere un DEM più o meno validato di riferimento o più DEM ottenuti da satellite in maniera diversa che saranno inevitabilmente diversi quindi questa è la cosa che si può fare con tutti i limiti ovviamente nei posti dove non abbiamo proprio misure non abbiamo proprio idea grazie scusa passo la parola perché ho visto che Cristian aveva alzato la mano quindi magari c'è qualcosa da aggiungere sì grazie Giuseppe no una è una curiosità se il software immagino che ti fornisca una valutazione dell'accuratezza in quota rispetto ai parametri di acquisizione e volevo sapere se se te la dà e se quello che poi avete misurato voi in campo con i gps migliore magari di quello che il software ti dice no il software non te lo dà quindi fai quello che puoi però non ti dice qual è l'accuratezza no non ti dice l'accuratezza perché appunto non è una cosa semplice da valutare quindi l'accuratezza quello che tu fai della ricavi è normalmente quella che noi diciamo che l'accuratezza mettendoci un po' sicuro è sopra il metro un metro e due di accuratezza verticale con le misure prese là siamo scese 50 centimetri o anche meno e una valutazione invece del posizionamento in orizzontale di quei punti è fattibile perché siamo sempre là perché verticale dell'ordine del metro teoricamente c'è il pixel come spostamento quindi se c'è un metro di pixel ti aspetti un metro quello che può succedere è che in funzione dell'orbita e delle geometrie di acquisizione hai delle distorsioni che non vengono compensate e che quindi ti influenzano un po' da tutte le parti insomma non c'è più un orizzontale e uno verticale ma c'è la combinazione delle due è più difficile da individuare ma dentro il metro sicuro non sono dati precisissimi questo lo sappiamo benissimo ok e l'ultima che non è una domanda in realtà mi sembra che hai accennato alla possibilità di mettere dei segni a posto che siano visibili da satellite avevamo pensato di fare questo sì avevamo pensato di fare questo almeno su Etna per avere più controllo o comunque di prendere delle misure come abbiamo fatto lato sud ad hoc andando proprio a scegliere dei punti ben visibili proprio quindi scegliere prima dall'immagine e poi si 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 e poi lo vai a cercare sul posto va bene grazie grazie a te bene altri interventi domande curiosità commenti tutti felici ottima cosa ho visto che anche nel frattempo eravamo ben saliti sopra i quasi a quasi 60 spettatori quindi complimenti se non ci sono se non ci sono altri interventi direi di fermarci qui faccio i miei ringraziamenti complimenti agli autori di questo studio e non so se c'è PG per spegnere la registrazione o ci penso spengo io spengo io ok va benissimo grazie allora grazie